Boschi rigogliosi, dolci colline, cime mozzafiato. L'Italia risplende davanti ai nostri occhi. Non mandiamola in fumo. Proteggi ciò che ami, ama ciò che proteggi. Non dare al fuoco una possibilità. In caso di incendio boschivo, chiamare il numero 115 o dove presente il numero unico di emergenza 112. Grazie a tutti.